E continuiamo a parlare delle Ollus in collegamento ora con Luca Pompei per i nostri profili social. Oggi spazio meritato, giusto e volentieri assegnato a Progetto Noemi. Luca, le ultime. Ciao Carmine, si dici molto bene. Già da diverso tempo stiamo sostenendo questa bellissima iniziativa che ricordiamo si terrà il 4 giugno a partire dalle 21 al Teatro Marrucino di Chieti. Vi facciamo vedere intanto lo spot che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine social con la voce di Federico Perrotta. Federico Perrotta insieme a tanti altri nomi importanti dello spettacolo saranno proprio il 4 giugno alle 21 al Teatro Marrucino per festeggiare i primi dieci anni di Noemi. È un traguardo importantissimo, questo ce lo ha raccontato molto bene il papà di Noemi, Andrea Sciarretta, però è facilmente comprensibile. Noemi è affetta da una brutta malattia, l'asma 1, e tutti i medici gli avevano dato solo pochi anni di vita. Invece Noemi con un grande coraggio sostenuto dai suoi genitori e dal suo fratellino è arrivata a raggiungere questo importantissimo traguardo e per questo va festeggiato a dovere e soprattutto in qualche modo bisogna anche sostenere l'associazione nata intorno a Noemi, si chiama appunto Progetto Noemi per raccogliere fondi non solo per la ricerca ma anche per tutelare e sostenere bambini gravemente malati non solo per le cure ma anche per una degna assistenza. un progetto portato avanti dal papà di Noemi, Andrea Sciarretta, qui vedete altre immagini che ha girato Andrea insieme alla sua Noemi, a questo sorriso stupendo della piccola Noemi e quindi un invito, un appello anche dai nostri profili social a tutti voi a partecipare a questa importantissima festa di compleanno. a te Carmine. Grazie Luca, io cedo proprio il microfono, la parola a Noemi e a papà Andrea per rinnovare questo invito, ricordiamo che Reteotto è molto volentieri media partner dell'evento del prossimo 4 giugno. Noemi, che fai? Stai preparando la lista dei regali. Sì. E perché? Tra poco il tuo compleanno. Tra poco il tuo compleanno. Sì. Ebbene sì, Noemi compie 10 anni. 10 anni di amore per la vita, 10 anni di forza straordinaria. Noemi, grazie alla solidarietà, grazie al progetto Noemi, ha raggiunto traguardi importanti grazie alla solidarietà, non solo per lei, ma per tutti i bambini da Abruzzo e oltre. Esiste solo ed esclusivamente un modo per festeggiare, insieme e riuniti. Sabato 4 giugno, ore 21, Teatro Marruccino, Chieti. Vi aspettiamo numerosi, potete prenotare il vostro biglietto al 333-500-1699 o su ciotickets.com. È un modo per rivedersi finalmente insieme e raccogliere i frutti di un traguardo meraviglioso, di questo sorriso spettacolare, questi occhioni lucenti che hanno spostato il mondo affinché ci sia la vera attenzione, qualità di vita e come sempre diciamo noi, senza mai... Vi aspettiamo! Ciao! Ciao!